buongiorno a tutti e bentrovati in questo martedì di marzo secondo giorno in cui voi non state svolgendo attività didattica per i fatti che ben conoscete e che sono legati alla disposizione governativa della chiusura delle scuole per quanto riguarda appunto le attività didattiche. Allora perché questo video? Questo video viene realizzato per voi per darvi indicazioni a riguardo di quello che potreste fare nelle prossime giornate nelle quali non siete a scuola. Un altro messaggio adesso non li considererò più. Che cosa c'è da fare sostanzialmente? Bene, una premessa fondamentale. Quello che sto per darvi è tutto un riferimento a cose già fatte, cioè non spiegherò assolutamente niente di nuovo né vi chiederò di fare delle verifiche alle quali io dovrò mettere un voto. Certo vi chiederò di inviarmi del materiale ma soltanto per mantenere un minimo di contatto, visto che qui non è che si possa proprio parlare di insegnamento a distanza ma più che altro di un mantenimento di rapporti in maniera tale che non si pensi che il professor Giacomo Antonio vi sia, cioè si sia dimenticato di voi. E quindi eccomi qua, potete ammirare il mio fantastico visivo e tutto il suo splendore e venerarlo in ogni momento di questo video. Va bene, prima di cominciare però a darvi queste indicazioni purtroppo devo farvi un brutto riprovero perché ancora una volta vengo a sapere che vi siete comportati in un modo un po' negativo nei confronti di alcuni compagni. Allora per piacere vi chiedo anche in queste giornate di essere corretti nei confronti di tutti, di non offendere nessuno, di non umiliare nessuno, di non sentirvi superiori in nessuno. Per piacere prendete ancora una volta questo mio, tra virgolette, riprovero in realtà come un consiglio, un consiglio di comportamento non solo per il bene degli altri ma anche soprattutto per il vostro bene. Speriamo che ci siamo intesi perché secondo me chi doveva capire ha capito. E ora andiamo a dare le indicazioni riguardo di quello che vi servirà per i prossimi giorni. E partiamo quindi con questo PowerPoint, presentazione dall'inizio, che ho intitolato con delle parole forse un po' usurate, la scuola ai tempi del coronavirus. Bene, che cosa faremo? Cosa fare nei giorni in cui le attività didattiche sono sospese? Punto di domanda. Partiamo in ordine di discipline con la grammatica. Bene, questo interessa soltanto agli alunni Russo Giuseppe, Terrone Claudia e Terrone Francesco perché come loro sanno dovranno ripetersi tutta l'analisi del periodo perché a loro rientro a scuola io li interrogerò con una verifica orale di recupero per via dell'elaborato andato in maniera non eccezionale che vi ho consegnato prima di questi giorni di chiusura. Quindi, a loro rientro, gli darò alla lavagna una frase e di quella frase loro dovranno fare l'analisi del periodo. È bene che ripetano l'analisi del periodo. Per quanto riguarda invece antologia. Bene, sull'antologia c'eravamo rimasti con la poesia. Bene, la poesia da ultimare a tema amoroso. Avete avuto da me tutte le indicazioni possibili su come comporre i versi. Quindi che cosa vi chiedo? Inviarmi la vostra poesia. Ovviamente ricordatevi di darne un titolo e per inviarmela dovete farlo nelle seguenti modalità. O me la inviate tramite una mail al mio indirizzo che è professorgiacomantonio.gmail.com oppure me la inviate con un messaggio privato di testo su whatsapp. Non una fotografia, un messaggio di testo scritto. Ok? Questa poesia vorrei che me la inoltrasse entro le ore 18 di lunedì 9 marzo, mi raccomando. Ovviamente quando io la riceverò proverò poi a sistemarla, a correggerla un po' e ci risentiremo su questo. Sempre per quanto riguarda l'italiano, ma passando alla narrativa. Bene. Dovete svolgere i compiti che sono stati già assegnati. Quindi la lettura e il riassunto scritto e orale della novela di Pirandello, la patente, la trovate alla pagina 178 e 190 del vostro libro di testo e con gli esercizi di pagina 193, numero 1, 2, 3, 4 e 5 e di pagina 194, numero 1 e 2. In più dovete elaborare un testo con la seguente traccia. Sei superstizioso? Sì? No? Alle volte? Se no, spiega il motivo. Se sì o alle volte, racconta qualche esempio di gesti e ritualità che segui e spiega perché lo fai. Quando consegnare questa roba? Allora, il riassunto e gli esercizi li possiamo controllare quando tornerete a scuola. Mentre per quanto riguarda l'elaborato scritto, me lo dovete inviare, sempre a me, tramite una fotografia del quaderno e anche un messaggio audio della lettura dell'elaborato nel gruppo WhatsApp entro martedì alle 10 alle ore 12 e 30. Ancora, sempre per quanto riguarda narrativa, attenzione adesso, sicuramente ricorderete che vi è stato consegnato un libro qualche giorno fa. Dovete iniziare a leggerlo autonomamente, siete in terza media e siete in grado di poterlo fare. Questo è il libro, lettere a un 12enne sul fascismo di ieri e di oggi. L'autore è questo personaggio che vedete qui, Daniele Aristarco. È della mia stessa generazione, del 77, ed è, e ve lo raccontai già, anche lui è un insegnante, ma oltre a essere un insegnante è uno scrittore di libri per ragazzi, è anche uno storico. Che cosa ha scritto in questo libro fondamentalmente? Ha scritto una serie di lettere, 11 lettere, che ha immaginato di scrivere ad una ragazza di 12 anni sul tema del fascismo, del fascismo del passato, ma con dei riferimenti anche al fascismo del presente. Non la farò troppo lunga, leggete attentamente la premessa per capire bene di cosa si tratta. Cosa dovete fare voi a questo proposito? Innanzitutto dovete leggere la premessa, come vi dicevo prima, e poi avete il compito di leggere una lettera al giorno. Facciamo così, cominciamo da domani. Oggi leggetevi la premessa. A partire da domani, una lettera al giorno. E al termine di ogni lettera letta, dovete inviarmi una domanda che vi è venuta in mente e che vorreste rivolgere all'autore che noi incontreremo, come sapete, il giorno 30 marzo, a meno che non ci siano ulteriori sconvolgimenti. E la domanda va scritta sul quaderno, ma dovete inviarmela tramite un messaggio privato su WhatsApp, anche questa volta in formato testo. Ovviamente ogni giorno una domanda sulla lettera che avete letto. E a rientro a scuola leggiamo tutte le lettere che sono rimaste, perché sicuramente in questi giorni non riuscirete a fine di leggere il libro se andate al ritmo di una lettera al giorno. Però quando tornerete appunto ognuno dovrà avere sul suo quaderno l'elenco delle domande che mi ha inviato, in ordine, e io poi vi dirò quali dovrete tenere ciascuno e quali invece no, in vista di questo incontro con l'autore. E ovviamente, visto che abbiamo letto questo testo, lo stiamo comunque leggendo, a rientro dobbiamo parlare di quello che avete letto, dobbiamo farci dei discorsi, dovremmo parlare, sentire un po' voi cosa ne pensate, le riflessioni che emergono. Insomma, un bel dibattito. E chi vuole naturalmente può cominciare a pensare di rappresentare il proprio libro anche sotto forma di un disegno, con una qualsiasi tecnica artistica, perché mi piacerebbe che questo disegno, fatto da uno di voi o da alcuni di voi, venga consegnato come un piccolo regalo, appunto, all'autore il giorno in cui noi lo incontreremo. Ancora, approfondimento. Su approfondimento dovete studiare gli appunti sull'origine della Costituzione che vi ho dato l'ultima volta che abbiamo fatto lezione e svolgere l'esercizio che vi ho assegnato. L'esercizio è questo qui, l'ho trovato ovviamente anche su WhatsApp nella fotografia, però se volete lo potete leggere qui. Comunque, questo esercizio va svolto, diciamo, entro mercoledì 11 a mezzogiorno ed inviatomi con una foto del vostro quaderno per appunto farmi vedere che l'avete svolto. Mi raccomando, non testi in breve, un testo articolato, una riflessione ponderata. Bene, ancora, per quanto riguarda la letteratura, avete, diciamo, da ripassare la foto proprio su Berga e studiare quella su Pascoli che vi ho spiegato l'ultima volta e quindi vi ricordo, vi faccio vedere un po' i loro visi così non, come dire, ve ne andate in tristezza per non poterli studiare a scuola. Eccolo qui, simpaticissimo Berga e questo è il paffuto Giovanni Pasqui. Ok, bene, passiamo alla storia. Per quanto riguarda la storia, ovviamente l'ultima cosa che abbiamo fatto è stato il compito in classe. Io li ho già corretti. Non posso, purtroppo, farvi vedere quei compiti inviandoli con una foto perché, diciamo, sono documenti ufficiali che non possono circolare al di fuori della scuola, quindi li potete vedere soltanto al vostro video in trascuola. Però ovviamente non ho spiegato nient'altro, quindi non vi posso nemmeno segnare niente da studiare. Perciò, quello che farò nei prossimi giorni sarà inviarvi dei video con dei link su YouTube sulla storia del fascismo, così, per cominciare a farvi un'idea e soprattutto, appunto, perché questa idea possa andare di pari passo con quello che leggerete nel libro di narrativa. Infine, per quanto riguarda la geografia, avete, diciamo, dire, per chi non avesse fatto ancora da realizzare la carta geografica sull'ucido e la scheda di tutti gli stati sui nuovi studiati, con gli approfondimenti, le particolarità, le ricerche personali, su Stati Uniti, Messico, Argentina e Brasile. E, ovviamente, quando voi rientrirete a scuola, tutti quanti saranno suscettibili di essere interrogati su tre di questi quattro stati a scelta. Va bene? Beh, io avrei, almeno, vuol dire, per il momento, concluso. Non posso far altro che inviarvi un carissimo e affettuoso saluto. Cercate di avere cura di voi in questi giorni. Cercate di voler bene a voi stessi e agli altri. e, soprattutto, cercate di svolgere quanto io vi ho detto in questo video. Tanto bene infinito a tutti quanti. Spero di poterci vedere prossimamente. Ok? Cari, saluti a tutti.